Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda degli Insegnanti, perché è importante aderire allo sciopero di lunedì 30 maggio? Per due motivi, innanzitutto per rivendicare un trattamento economico decoroso, perché lo sciopero è l'unico strumento che abbiamo per segnalare il nostro disagio. In secondo luogo, per protestare contro il decreto legge numero 36, emesso il 1 maggio, che andrà a incidere profondamente sia sul nostro lavoro futuro, prevedendo gradualmente un aumento dell'orario di lavoro, sia ad incidere sulla nostra libertà, perché si va verso una forma di aggiornamento che diventa formazione di Stato. E questo noi non lo possiamo accettare, perché la difesa della libertà di insegnamento per noi è fondamentale. Grazie a tutti.